Sei un disco di diamante che non è ancora uscito, ma è già il mio preferito Non ti passo la radio e non ti trovo su Youtube Ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views E ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feed Per accorgermi che solamente tu sei la mia... ... 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 è supposed to be a goat è supposed to be a goat this is a rock no, è un po' no, è un po' see qualcosa là baby, là è è quello come si chiede? è anche qui è un ram è un interessante ram è un ram come se è un lion. un lion? come se è un lion? come se? come se? come se? come se? ok ai ai capitan and this is number 20 ok, now we go to... wait, we go to Ariete first, otherwise we'll be all over the place and here I am and here is our fellow Ariete yeah, we are finally united we are united bruh, where are the horns though? ok, somebody brought nobody's died so, 19 Ariete 20 Panka Etrusca yeah, we go to Panka Etrusca Panka is the bank hold this paper is this one the bench, Etruscan bench Panka 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 I can see I forgot about the photos this is the Panka Etrusca this is the Panka Etrusca take a picture of my aliens yeah would you take a picture of those? no, I this is the Aviete Aries the Zodiacs Cantaro no, we are good the vaso ah, the vaso a very big one this thing almost broke up 21 vaso can we show i show my subscribers or my viewers orko 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 is the mouth okay this one we have to enter why is that one beautiful ah, it's there there, we have to take a photo we have to go in Sì, facciamo la scuola, facciamo la scuola per fare la foto Sì, voglio fare la foto Quanto anni fa? Quanto anni fa? Non lo so. Ma sono orizzato qui? O sono riusciti qui? Non lo so. Non lo so. Non, non lo so, perché guarda qui. Sì, siamo qui, ammigliati. Ok, non lo so. Ok. Potrebbe essere questo elefante? 23? Il drago. Non, è il drago. Questo è il drago. No, aspetta. Non c'è il drago. Questo è 23, il drago. E poi, il prossimo? L'elefante. Pronto? Ok, il prossimo dovrebbe essere l'elefante. Questo è l'elefante. Questo è l'altra parte, l'altra parte. Ok, l'evemente è più andata. Ecco, guarda il bidot. Ah, guarda il bidot now. Guarda il bidot. Guarda il bidot right now. Guarda il bidot. Guarda il bidot. Guarda il bidot. Oh, buon. Il vendito. 25 è chiamato? Cerere. Cerere. Quanto? Cerere? Quanto? Non lo potevo significa? Non lo porta in italiano. E l'oleto è latino. No, non lo so. Ok, è questa moglie come Medusa. Si, ha piccoli. Si, ha piccoli, piccoli. Oh wow! Ok, prossimo. Hai fatto una foto? Ci sono queste colombe. Il prossimo. Il prossimo. Il prossimo. Il prossimo. Il prossimo è quello che. Il prossimo è quello che è. Il prossimo è quello che si chiama Netuno. Cosa c'è la differenza tra Netuno e Oceano? Non è il suo nome. No, no, non è la stessa. Natunno è la kinga dell'acqua, non dell'acqua. L'acqua dell'acqua. L'acqua dell'acqua? L'acqua dell'acqua. L'acqua dell'acqua di Trevi. Penso che è la stessa forma, come il nome romano e il nome greco. L'acqua dell'acqua 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 dell'acqua. L'acqua dell'acqua dell'acqua dell'acqua. Quale è? 27 e 28, ma devo dire che è. 28. Delfino. Ah, Delfino. Ok. Delfino. Nettuno. 29 e 30. Bene. Donna dormiente. Come è sleeping? Ma è il dragon? Il Delfino. Il Delfino. Il Delfino. Ah, c'è questa madame qui. C'è la chiamata? Delfino. Delfino. Dormiente. 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 C'è l'acqua dell'acqua 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 dell'acqua. Ah, è come quello che... Vi faccio il video. Il Delfino. Il Delfino, di cui, oh sì. C'è l'acqua della stagione. Proste faccio il mio mio cervello. L'acqua di pensi. Il Delfino. C'è l'acqua dell'acqua. C'è l'acqua. C'è l'acqua. C'è l'acqua. ri. C'è l'acqua dell'acqua, quando sei insieme a corse. Dormaisi parla. C'è Napolèon. ma non devi fare questo questo è quello? sedili e torretta sedili e torretta la torre torre vediamo se è non c'è la porta 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 è difficile disimular lo che passa per mi mente quando te tengo di fronte esas ganas de toccar ese corpo lentamente divertirnos malamente con tu pie baila hasta que la noche se acabe bailamos salsa y reggaeton eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe que bailas con esa pasion si lo haces como eso lo mueves yo me imagino eso es una acción chicas sé que tu tienes la clave baila conmigo esta cancion baila conmigo tu no baila con cualquera lo mandino questa sucka io ho fa? subito poi tra Bele l'intervento basmento Vincino Orsini 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 Vincino Orsini